Erano pronti a riaprire le porte della foresteria, l'avrebbero infatti fatto proprio oggi, ma il virus purtroppo è riuscito ad arrivare prima e le porte restano così blindate. Un focolaio infatti si è acceso al santuario di Chiusi della Verna. Attualmente i frati contagiati sono 31 su 34, negative invece le quattro suore, ovviamente anche loro isolate, proprio come tutti i francescani, risultati attualmente negativi, numeri che farebbero pensare ad una possibile variante. Oggi era tutto pronto per riaprire, purtroppo questa situazione ha ribloccato tutto, siamo dispiaciuti. Tutto sarebbe partito da un novizio operato ad una gamba e poi rientrato al convento. Poi è andato a finire che si sono contagiati perché loro fanno una vita di comunità tutti insieme, come sarebbe una grande famiglia. Il primo cittadino ha già messo un'ordinanza di chiusura del santuario sino al 15 maggio. Si è fatto chiudere tutto, a questo punto sono dentro chiusi ognuno nelle sue stanze. L'ASRA sta monitorando attentamente la situazione, le condizioni di salute dei religiosi, al momento non desterebbero comunque particolari preoccupazioni. Ieri sera ho parlato col padre Guardiano, mi ha detto che tutti stanno bene, che non ci sono problemi. Ieri si hanno fatto anche tutti la visita. La cosa a livello anche sanitario è sotto controllo e anche abbastanza tranquilla. Ci sono anche due frati anziani già vaccinati. Sì, si hanno fatto il primo vaccino e ora vengono a fare la seconda. Però stanno bene, anche lì siamo abbastanza ad oggi tranquilli.